passerei al prossimo iscritto a parlare che è Gianni Rubagotti quindi chiedo a Donato Volpicella se è pronta il collegamento ricordandovi che al termine dell'intervento di Gianni Rubagotti sono chiusa l'escrizione a parlare dopo di lui interverrò io e per iscriversi a parlare è sufficiente inviare un'email a libredibubbio.com quindi Gianni non so se tu ti vuoi iscrivervi a parlare al dibattito generale se vuoi aggiungere qualche altra cosa ti iscrivo qua in elenco sì sì ok aggiungimi così dico qualche cosa una proposta che lancio lì benissimo allora Gianni Colaccione ok non so se Riccardo vuole partecipare anche lui al dibattito generale quindi ricordo che al termine dell'intervento di Gianni Rubagotti saranno chiuse l'escrizione a parlare dopodiché saranno maturi tempi per la presentazione della mozione generale e tutti gli adempimenti statutari è un congresso light però è un congresso assolutamente a norma di statuto efficace da tutti i punti di vista di conseguenza non abbiamo nessun timore del fatto che magari possiamo essere un numero ristretto di persone perché o in pochi o in centinaia di migliaia la dinamica sarebbe stata questa poi nel mio intervento aggiungerò delle altre cose Gianni Gianni Rubagotti sei online pronto pronto mi sentite sì sì ti sentiamo perfettamente hai solo l'audio hai solo l'audio probabilmente perché hai la versione skype vecchia sono in audio ma va assolutamente bene non ci sono problemi a te la parola Gianni allora il problema è che io ho un rapporto conflittuale con skype per cui non riesco a installarlo sul pc ce l'ho solo sul cellulare quando mi chiamano mi mandano le richieste non vedo mai per cui accontentatevi dell'audio per adesso mi sentiamo perfettamente quindi va assolutamente bene prego allora mi sono segnato un paio di cose da dire innanzitutto questo è un intervento di ringraziamento perché come sapete si è creata a Milano un'associazione una piccola associazione radicale con qualcuno tra l'altro è scritto anche Colacione e già da prima che questo gruppo arrivasse a questo punto e voi avete trasmesso le due serate che abbiamo fatto in Tortora quindi quella su democrazia diretta e partecipata a cui tra l'altro rispetto alla quale non erano stati avvisati gli iscritti della Tortora per cui l'avranno saputo qualcuno anche tramite voi e la serata con il Gibilini che c'è stato lì si parlava di referendum milanesi tra Gibilini e Lipparini poi vabbè il nostro congresso di confondazione l'avete trasmesso voi Radio Radicale non è venuta e avete trasmesso le due serate che abbiamo fatto sulla non violenza e l'ultima sull'Islam su cui tra l'altro forse ci sarà una novità tra un po' questa è la prima cosa che volevo segnalare è chiaro che noi possiamo sul nostro canale YouTube e in realtà chi va sul nostro canale YouTube lo vede lo streaming il punto è che non lo conosce nessuno quindi tramite voi qualcuno che non ci conosceva ha visto che c'erano quelle cose e ci ha visto di fatti considerate le nostre dimensioni il numero di visualizzazioni attorno al centinaio e oltre per quelle serate per una realtà come la nostra va benissimo questo è il primo punto il secondo punto è giusto ci siamo ispirati anche un po' al vostro congresso online perché nelle nostre serate cerchiamo oltre di avere le persone che guardano la serata oltre che come spettatori anche come persone che intervengono abbiamo generalmente uno o due se non di più interventi in remoto previsti in ogni serata in cui che facciamo una serata culturale o anche anche al congresso c'erano Valerio Federico intervenuto in remoto da noi mezzo un po' più accrocchiato al telefono con un piccolo amplificatore però cerchiamo di avere anche dei relatori che non sono presenti fisicamente il primo punto era questo poi come secondo punto dei tre tranquilli vi segnalo che una cosa che ho scoperto oggi vedendo il video del Consiglio Comunale il sindaco del mio paese a un certo punto ha detto che tra l'altro comunque è il più votato tra i consiglieri della città metropolitana di Milano ha detto questa risposta a un'interrogazione la leggo io ma se c'è qualcuno che prende nota in realtà attribuitala all'assessore che l'ha scritta che è Boffi questa cosa che sembra un po' politichese non si capisce che cos'era in realtà ha un contesto ben preciso cioè abbiamo fatto una specie di anagrafe degli eletti guardando i video del Consiglio Comunale e segnandoci Tizio al tal minuto ha fatto un'interrogazione da tale assessore al tal minuto gli ha risposto e così via facendo delle statistiche anche delle vere e proprie classifiche che sono una cosa che nel mio comune ha abbastanza sconvolto la scena politica cioè c'è un assessore che mi ha tenuto mezz'ora durante il Consiglio Comunale lui è stato mezz'ora fuori a parlarmene quindi ecco una piccola cosa che si può fare con i video il fatto che ci sia la registrazione video di un Consiglio Comunale oltre al fatto che può essere trasmessa riprese ci sono per esempio Cusano Milanino parlo dei comuni della mia zona c'è qualcuno che lo riprende il Consiglio Comunale e una cosa che si può fare è che qualcuno lo guardi e si segni che cosa succede e faccia delle classifiche e può succedere un vero e proprio terremoto perché non si aspettano che qualcuno controlli la loro produttività terzo punto il volontariato che faccio per Radio Radicale perché a un certo punto ho scoperto che bastava la videocamerina che avevo per registrare delle cose e quindi quando vado a un evento a un dibattito ho preso il vizio di registrarlo sia che partecipo sia che non partecipo sia che faccio una domanda sia che non la faccio questo significa significava all'inizio che mandavo il video a Radio Radicale tra l'altro con scheda poi ho preso il vizio di metterlo prima adesso che abbiamo il canale dell'associazione ho preso il vizio di metterlo prima sul canale dell'associazione che tra l'altro si chiama Associazione Radicale per l'iniziativa radicale Miriam Cazzavillano poi eventualmente sull'evento metto il link il risultato è che a Radio Radicale con i suoi tempi pubblica poi mette la scheda che ho fatto io ma un po' prima si trova sulla mia associazione ve lo dico perché è tutto Creative Commons quindi lì se Liberty V è interessato oramai una trentina di video ci sono può pescare le cose che sono lì molto spesso già schedate quindi il nome dell'intervento addirittura su certe cose che sto recuperando nel vecchio archivio di Radio Radicale che ci sono ma non sono molto evidenti mi è capitata una relazione sulla democrazia diretta dove ho fatto un minimo di scheda all'interno dell'intervento cioè dal tal minuto al tal minuto si parla di democrazia diretta dal tal minuto al tal minuto si parla di azione popolare e così via quindi uno può andare a sentirsi il pezzo che gli interessa cliccando su YouTube questo è quando quindi se a Liberty V interessa utilizzare quei video sono tutti in Creative Commons sono a disposizione compresa non in tutti perché arriverò a farlo in tutti la scheda tutto qua grazie di tutto grazie grazie Gianni Rubagotti dobbiamo dire che la tua è stata un'associazione un po' una tradizione di Liberty V aver dato in qualche modo battesimo o comunque sia aver registrato le assemblee fondative di varie associazioni che poi sono diventate anche associazioni radicali ovviamente ogni volta auguriamo in bocca al lupo a tutti quanti e speriamo ovviamente che anche la tua associazione si sviluppi insomma la realtà come Milano è abbastanza grande quindi insomma c'è spazio c'è spazio per tutti grazie di questa tua offerta possiamo interagire su Milano peraltro siamo un po' abbastanza scoperti dobbiamo dire la verità quindi insomma possiamo interagire grazie davvero Gianni ciao grazie Gianni grazie mila per me grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti